Amo ProfiColor, buongiorno. Come dice, ci serviamo imprese artigiani? Ma certo, siamo qui per questo. Avere costruito negli anni il gruppo più grande in Italia nella rivendita di materiali per edilizia leggera, palinameria e industria è per noi motivo di grande soddisfazione. Questo è stato possibile solo grazie ai nostri collaboratori, più di cento persone che vorremmo ringraziare, una ad una. Costruire la nostra rete di rivendita è stato il nostro obiettivo e lo abbiamo raggiunto, presidiando tutto il territorio del nord-est Italia. Questo però non ci ha cambiati dentro. Nonostante le dimensioni, continuiamo a dare grande importanza al rapporto stretto con i nostri clienti. Oggi stiamo lavorando per poter dare maggior supporto a imprese ed artigiani ed è per questo che stiamo investendo importanti risorse per sviluppare servizi e soluzioni per poter essere un vero partner per loro. Siamo solo all'inizio, vogliamo fare molto di più e lo faremo. Amon Profi Color